Quasi 120 mm d'acqua caduti nel giro di poche ore, come rilevato dalla stazione di monitoraggio ARPA ai torrioni di Rialba, a Badia. Quasi la stessa quantità di pioggia che si registra in media nell'intero mese di settembre. Basta questo dato per descrivere il nubifragio che si è abbattuto nella notte sul territorio lariano. Due violenti temporali, il primo dopo la mezzanotte e il secondo alle prime luci dell'alba con grandine di dimensione notevole, hanno costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi a Lecco e nei comuni del territorio per allagamenti e rimozione di ostaconi in strada. Ben quattro persone sono rimaste bloccate con le loro vetture in sottopassi invasi dall'acqua in via Buozzi e in corso Carlo Alberto, a Lecco, in via Mazzini, a Calozio Corte e sulla SS36 Dirra. Proprio a causa dell'allagamento dell'attraversamento cittadino, ANAS ha chiuso questa mattina il tratto lecchese della superstrada e il tunnel del Barro. La circolazione è stata deviata sulla provinciale a Civate. Inevitabili le code, il traffico è rimasto a lungo completamente paralizzato in direzione del capoluogo. La situazione è tornata gradualmente alla normalità a partire dalle 11, quando la 36 è stata riaperta. Disagi anche per gli spostamenti in treno, in particolare sui binari del Besanino, rallentati a causa della caduta di rami. Uno ha colpito anche un convoglio. Da segnalare infine, tra i danni provocati dalla grandine, quelli alle coltivazioni. Queste le conseguenze sulle colture della cooperativa Selvetto, sul versante meridionale del Monte Barro.